Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e Barberino e in carreggiata opposta tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sempre in A1, rallentamenti per traffico verso sud anche tra P1 Variante e Badia. Ci spostiamo in A11, Prudenza per perdita di carico tra Lucca Est e Capannuri verso Firenze. Si tratta di una tavola da surf. In Fipili per lavori troviamo rallentamenti tra Empoli Est e Ginestra verso Firenze, possibili disagi sullo stesso tratto anche in carreggiata opposta. Ricordiamo che per i cantieri in corso tra Montelupo ed Empoli Est è in vigore il doppio senso di marcia nella carreggiata verso Firenze e la chiusura della carreggiata in direzione mare. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!